Natale come partecipazione alle azioni dello Spirito Santo Natale come invocazione allo Spirito Santo perché noi possiamo riscoprire nella nostra vita l'esistenza di un amore con cui riamare l'amore vero con cui riamare questo Dio che nell'uomo si fa carne questo Dio che nell'umanità nel bambino si fa carne questo Dio che si assume su di sé tutta l'umanità anche il peccato pur non essendo peccato ma questo desiderare di amare Dio deve diventare concretezza e perché noi possiamo aumentare il desiderio di celebrare dentro di noi il Natale facendo nascere Gesù nella nostra vita vedete sono belli i bambini quando dicono, quando cantano quando non so se ancora si usa ma io ricordo nella mia infanzia era bello aspettavamo tutti il giorno di Natale per leggere la letterina di Gesù Bambino che semmai scrivevamo a scuola aiutati dal maestro o dalla maestra oppure aiutati dal catechista o dalla catechista e non solo per avere il regalo ma anche per dire quando volevamo bene a Gesù e quando volevamo bene ai nostri genitori alla nostra famiglia bene, dicevo quando sentiamo dire ai bambini che Gesù nasce nel cuore dell'uomo che Gesù nasce nel mio cuore non è una cosa da bambini è veramente un mistero è una realtà vera è questa realtà dei bambini che ci insegnano molto nella vita bene, questo desiderio dei bambini che vogliono e che chiedono a Gesù di nascere nel proprio cuore è il vero senso del Natale perché Gesù è venuto e Gesù continua a venire nei sacramenti Gesù continua a venire nelle azioni, nelle operazioni come abbiamo detto dello Spirito Santo Gesù continua a nascere nella nostra vita tutte le volte che noi accogliamo il suo amore tutte le volte che noi doniamo questo amore dicevo questo è il vero senso del Natale perché Gesù è nato per poter nascere nella vita di ciascuno nel cuore di ciascuno ma come fa Gesù a nascere nel mio cuore se il mio cuore ha la tristezza ha il dolore ha il peccato ha l'egoismo ha 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 semmai anche il rifiuto di Dio il rifiuto di Gesù se il mio cuore è disperato come fa a nascere Gesù bene Gesù non è venuto per cuori felici ma è venuto per rendere felici i cuori Gesù non è venuto per riscaldarsi nel cuore dell'uomo no ma è venuto per scaldare il nostro cuore per scaldare i cuori a volte gelidi che abbiamo dentro Gesù non è venuto per prendere la luce dell'uomo ma Gesù è venuto per restituire la luce a un uomo che nel cuore ha il tradimento ha il peccato ha la superbia ha l'orgoglio Gesù è venuto e viene perché vuole aiutarci a rinascere in Lui Gesù viene ed è venuto per portarci la vita è la vita vera e noi spesso come leggiamo nel Vangelo non lo accogliamo che veramente il Signore nasca nel mio e nel tuo cuore vi aspetto domani parli più tv dritto al cuore ciao a tutti l'unihistore va a tutti e ne vi aspetto domani vi aspetto domani la vita